E' durata oltre cinque ore ieri nell'ospedale San Massimo di Penne l'autopsia svolta dal medico legale Cristian Dovidio su richiesta del PM Mirvana di Serio di Gabriele Gianmarino, il sottufficiale a riposo dell'aeronautica militare trovato morto domenica mattina nella sua casa in base a Dalle Fiamme nel centro storico di Penne. Su precisa disposizione della procura pescarese non sono trapelate notizie ufficiali sulle cause della morte dell'anziano ed in particolare se questa sia avvenuta prima dell'incendio oppure successivamente ma il medico legale non ha lasciato dubbi sul fatto che sia arrivata come conseguenza di omicidio. Quasi certo che le percosse subite dall'anziano siano risultate decisive per la morte di una persona fragile fisicamente. Gli accertamenti degli investigatori hanno portato ad individuare come presunto omicida il 36enne Mirko Giancaterino fermato in un bosco alla periferia di Penne e da domenica sera rinchiuso nella casa circondariale San Donato di Pescara. Nel corso dell'autopsia si è appreso che il medico legale ha ricostruito la dinamica temporale dei fatti che hanno portato alla morte dell'anziano e si è riservato la facoltà di ulteriori esami ed accertamenti presso l'istituto di medicina legale dell'ospedale di Chieti. Le indagini sono condotte dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pescara che attendono per i prossimi giorni anche i risultati dei rilievi dei carabinieri del RIS di Roma arrivati a Penne per esaminare l'appartamento del pensionato ucciso. La salma dell'anziano nelle prossime ore sarà riconsegnata ai familiari per l'effettuazione dei funerali.